Se ti interessano i contenuti di World of Warships mi raccomando ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella se vuoi provare il gioco completamente gratuito come sempre trovi il link in descrizione link che ti darà alcuni vantaggi per iniziare la tua avventura andiamo a vedere oggi il super cacciatore periniere giapponese Yamagiri come sempre partiamo dall'inizio resistenza 26.050 punti cannoni molto buoni la 127 tempo di ricarica 4.7 possibilità di utilizzare la raffica con un tempo di ricarica di 31.5 secondi l'intervallo tra colpi è di 1.1 secondi se vediamo qua precisamente sarà di 1.05 per eccesso viene messo a 1.1 numero di raffiche in una serie 3 cannoni molto buoni come dicevo danno 2150 a penetrazione 21 danno AP 2200 gittata 12.1 siluri particolarmente devastanti possiamo scegliere se andare a mettere la coppia di siluri da 12 e da 20 oppure la coppia di siluri da 8 e da 20 io personalmente scelgo la coppia da 8 e da 20 qui potete vedere tutti i danni e le varie velocità per quanto riguarda le cariche di profondità abbiamo esattamente 20 bombe contro i sommergibili che si possono utilizzare in una carica 4.600 il danno massimo particolarmente efficace difesa contraere a un valore di 54 142 e 1610 dalle esplosioni manovrabilità caccio torpediniere molto rapido 41.5 nodi tramite bandierina seramaic mimetizzazione 5.6 per quanto riguarda la rilevabilità dal mare andiamo a mettere quindi i moduli tubi lancio siluri modificati 2 e anche modificati 1 per ricarica e velocità sovralimentazione la durata più 30% e propulsione modificata 1 poi sistema di mimetizzazione modificato 1 obbligatorio e poi resistenza sulla principale modificato 1 Yamamoto Isoroku importantissimo il capitano speciale possiamo attivare riserva d'emergenza e anche seconda possibilità andiamo a mettere quindi manutenzione preventiva liquidatore molto importante bersaglio prioritario che viene preferito per quanto mi riguarda pesce sfuggente potrebbe essere un'idea o ultimo atto mettiamo quindi esperto di sopravvivenza per avere più vita sovrintendente non è necessario non serve a nulla scarica di adrenalina, ricarica dei tubi lancio siluri pesce, no, rapido e silenzioso mi confondo più 8% della nave di velocità quando la nave non viene spottata però perdiamo un po' di ricarica sulle torretti principali ma non fa nulla, si può giocare tranquillamente esperto di occultamento poi come ultima skill questo è il super caccia doppiliniere giapponese andiamo a vedere una partita e poi come sempre conclusioni finali e risultati post scontro partita ci sono tantissime cose da dire per quanto riguarda il cacciatore periniere super cacciatore periniere di Yamagiri quindi iniziamo immediatamente dalle cose magari più che si possono riassumere in poche parole per quanto riguarda l'antiaerea il cacciatore periniere non ha una grandissima antiaerea quindi cercate di evitare di in qualche modo stuzzicare la porta aerea nemica se vedete che sta arrivando o mettete il fumo o andate vicino a un alleato oppure allontanatevi dalla zona se proprio vedete che vi sta focussando in maniera costante c'è da dire che ha una buona rilevabilità minima lo Yamagiri quindi la porteria potrebbe fare un po' di fatica nell'individuarvi per quanto riguarda la rilevabilità in generale del cacciatore periniere 5.6 avrete un vantaggio molto significativo nei confronti di praticamente tutte le navi all'interno del gioco soprattutto i super cacciatore perinieri per esempio non so lo Zorky magari vi capita un Kleber a meno che non monti il modulo ok il Kabarosc e altre navi è inutile elencarle tutte per rendere il concetto quindi un vantaggio molto importante che deve essere sfruttato potete in qualche modo mantenere spottati i nemici e aspettare appunto che vengano focussati dai vostri compagni di squadra la raffica parliamo della raffica è particolarmente efficace è una raffica molto dolorosa per i nemici che la subiscono già di per sé i cannoni fanno male perché sono dei 127 con 2150 danni classici cannoni giapponesi che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso del tempo con i vari cacciatore periniere per l'appunto Shimakaze la stessa Yate eccetera eccetera andiamo qui a utilizzare dei siduri sulle navi che stanno avanzando tra l'altro il caso ha voluto che incontrassi il sommergibile nemico praticamente a pochi passi ovviamente qui sto collaborando con il mio compagno di clan della serie il bonus lo lascio a te e io vado un attimino nella zona più centrale per cercare in qualche modo di dar fastidio alle navi che si trovano in questa zona quindi antiera ne abbiamo parlato la rilevabilità ne abbiamo parlato velocità del cacciatore periniere ha del poco spettacolare 41.5 nodi con bandiera Seramaic quando la nave rimane invisibile potrà andare ancora più rapidamente sarà molto più rapida del normale perdete qualcosa sullo sparo però io personalmente prima kill sul sommergibile nemico quindi attiviamo il comandante la skill del comandante e andiamo a ottenere un consumabile in più quindi il comandante ecco perché dicevo è molto importante averlo i cannoni quindi anche con quella skill risulteranno particolarmente fastidiosi la raffica metterà in serie difficoltà praticamente qualsiasi nave nemica se magari è rimasta 1000, 2000, 3000 punti raffica e lo andate a chiudere cercate ovviamente di mettere a segno i colpi della raffica perché non è che lanciate la raffica mancate il nemico e poi non sapete cosa fare eventualmente si dovesse creare quella situazione almeno il fumo di emergenza dovete averlo disponibile quindi valutate sempre caso per caso per quanto riguarda i siluri una combinazione che io utilizzo sempre i siluri a 20 km si vengono spottati a 2.5 km però ho caricato veramente tantissimi video di danni e di partite molto importanti anche con la shimakaze e lo stesso pensiero lo porto con lo yamagiri ancora di più perché possiamo lanciare 18 siluri in confronto ai 15 della shimakaze possiamo inoltre scegliere se lanciare i siluri a 20 oppure i siluri a 8 km i siluri fanno malissimo sono molto distruttivi vedete che io qui sto cercando in qualche modo di posizionarmi tra l'altro senza neanche rendermene conto sono arrivato quasi a 100.000 danni nel giro di 5 minuti di partita 100.000 danni in 5 minuti 120.000 danni in 5 minuti 2 kill in 5 minuti è semplicemente un caccia d'alperiniere fenomenale nel momento in cui avete bisogno degli 8 km di siluri più veloci potete mettere gli 8 km vedete io qui sono andato a mettere gli 8 km non è che dovete lanciare sempre i 20 km i 20 km i 6 nemici sono abbastanza lontani ma se c'è un nemico vicino avete l'opportunità di utilizzare gli 8 km quindi sono particolarmente interscambiabili tra di loro possono essere utilizzati nella maniera più efficace possibile quindi ritengo che questa coppia sia la migliore per quanto mi riguarda all'interno appunto del gioco fate particolare attenzione perché gli 8 km in qualche modo vi costringono ad avvicinarvi troppo al nemico altrimenti non arriveranno a destinazione quindi cercate di evitare navi che hanno radar se c'è la porteria nelle vicinanze utilizzate i 20 km i 20 km vi danno la possibilità di essere particolarmente safe di mettervi in sicurezza rispetto ovviamente ai nemici nel momento in cui potete sparare come in questa circostanza direi piuttosto unica la nave nemica con i cannoni approfittatene perché sono danni ovviamente che è andato a fare lui sta facendo una pushata particolarmente inefficace ha una ricerca idrofonica a 6 km però noi ovviamente non andremo a farci beccare 165 mila danni in pochissimi minuti di partita qui tra l'altro poteva arrivare la kill sulla shift plan se non fosse che lo Yoshino va in qualche modo a prenderci una kill non fa niente non stiamo attaccati a queste cose a meno che non dobbiamo fare un record mondiale e mi collego al video del Dalarna se non l'hai visto se non l'avete visto andatelo a vedere perché è molto interessante cos'altro dobbiamo dire sul cacciatore periniere velocità cannoni antiaerea sui sommergibili lo ripetiamo ancora una volta siamo particolarmente efficaci tante bombe quindi possiamo ricoprire un'aria piuttosto vasta e colpire sommergibile nemico e legnarlo e fargli particolarmente male 3, 4, 5 cariche e il sommergibile nemico ovviamente poi dipende se è un colpo da esplosione oppure un colpo diretto dipende anche questa cosa qui siamo capitati tra l'altro nella mappa nella modalità arms race modalità che ovviamente va a potenziare non solo la nostra nave ma va a potenziare anche tutte le navi nemiche qualora i loro cacciatore perinieri prendessero appunto i bonus mi sono capitate delle partite in cui i cacciatore perinieri ma i giocatori non vanno a prendere il bonus cioè rimangono proprio fermi l'ho detto in altri video e lo ridico anche in questo e sinceramente non capisco il motivo offensiva generale qui andiamo a fare una cosa rischiosa perché ho detto e ho pensato durante la partita siamo in una fase particolarmente safe abbiamo un vantaggio importante so perfettamente che loro hanno un incrociatore qui dietro ovvero l'Edgar se ricordo bene siamo sotto la ricerca idrofonica Larry non sta dando fastidio e quindi dico perché non provare a one shotare questo incrociatore che sta qui dietro da mezz'ora e quindi senza troppa paura lo pusciamo Siluri a 8 km ovviamente un attacco vicino 8 km un attacco lontano medio mettiamo i 20 km fate molta attenzione a lanciare Siluri perché ovviamente lui potrebbe fare una via da secca a sinistra non so perché non abbia utilizzato la raptica io fossi stato in lui avrei dato il primo colpo normale e il secondo avrei utilizzato la raffica però vabbè ci andiamo a fare un colpo devastante saliamo a 220.000 danni abbiamo fatto 3 kill mi viene da ridere perché ripeto è tutto particolarmente assurdo abbiamo anche utilizzato un po' la raffica giusto per essere sicuri casomai per assurdo il incrociatore fosse rimasto con 1000 punti vita non ho capito il gioco dell'Henry che sta ancora una volta lì dietro fermo dietro un'isola ovviamente tramite la velocità del nostro cacciatore periniere potreste pensare di fare questi attacchi kamikaze pianificati con i siluri a 8 km 80 nodi di velocità quindi lui sta fermo dietro l'isola oppure non so è relativamente vicino siluri a 8 km e lo one shottate il nemico non ha nessuna possibilità di venirne fuori se poi ha la ricerca idrofonica o qualcuno gli da un po' di ricerca idrofonica potrebbe in qualche modo evitare i colpi in questa circostanza io ho detto vabbè la partita è pressoché vinta perché non provare a one shottare anche l'Henry infatti qui lo vado letteralmente a caricare a testa bassa della serie anche se mi affondi non me ne frega assolutamente nulla però ti voglio one shottare in un primo momento avevo pensato di one shottare la corazzata o audio sulla destra però è troppo distante molto importante non lanciate tutte le cariche di siluri in un'unica direzione vedete che io qui ho lanciato la prima la seconda e poi la terza perché se lui va a chiudere l'angolo come capita spesso e volentieri lo fanno se lanciate tutti i siluri tutti i siluri andranno a vuoto se invece lanciate dei siluri in maniera graduale dipende anche quanta vita avete ok avrete ovviamente più possibilità di colpire la nave avversaria e di one shottarla stesso discorso per quanto riguarda non so un cacciatore periniere nell'uno contro uno non lanciate tutti i siluri ma lanciateli in maniera in maniera diciamo un po' di distanza l'uno dall'altro altrimenti rischiate di ritrovarvi senza difese e significa perdere la nave riassunto dovete andare a colpo sicuro non avete possibilità di errore abbiamo fatto 4 kill 250.000 danni potevamo fare anche un kraken sebbene ricordate mi sarebbe piaciuto ma non fa niente l'ho già fatto con questa nave io su tutte le navi ho un minimo di kraken fatto perché insomma giusto per dire che l'ho fatto 250.000 danni due devastanti lo aglio sarebbe stato interessante qui stavo pensando a un certo punto di arrivare a 300.000 però effettivamente eravamo un po' distanti però per quello che si è visto in partita mi verrebbe a dire che saremmo potuto arrivarci senza troppi problemi torniamo nel porto conclusioni finali e poi come sempre risultati posto scontro la partita viene vinta al momento ho fatto più di 160 partite con un danno massimo di 284.000 per quanto riguarda lo Yamagiri è semplicemente un cacciatore peniere fantastico ottimo in qualsiasi circostanza si va a mettere per quanto mi riguarda è la mia unità preferita e nonché il mio cacciatore peniere preferito prima era la Shimakaze adesso è lo Yamagiri un po' da rivedere secondo me la mimetica che non mi fa impazzire potrebbe esserci qualcosa di più bello tra l'altro io per le supernavi darei delle mimetiche particolari anche se la mimetica è semplicemente un qualcosa di visivo perché ormai come ben saprete abbiamo i bonus economici che sono distaccati appunto dalle mimetiche però ripeto questo è quello che farei io cacciatore peniere assolutamente da provare almeno una volta su World of Warships ragazzi video terminato io come sempre vi ringrazio per i like i commenti e le visualizzazioni e noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay ciao ciao